a chiedere un lavoro e poi entra a fare un cazzo e mi tocca a fare tutto a me così guarda oggi non è giornata guarda veramente guarda non volevo disturbarla però ho visto che stava aperto e come vorrei cambiare lavoro volevo sapere se potevo lavorare qui sai mi piace lavorare all'aria aperta all'aria aperta di questa campagna ma tu che lavori hai fatto fino a poco? beh io ho fatto il commerciale per una rossa azienda e poi tutti i lavori di ufficio però io sono uno che si adatta, imbaro a fare la roba veloce imbari tu imbari, il drattore sei portato? il drattore vabbè imbaro dai che ci vuole? imbari a piantare le piantine sul campo? beh più o meno si dai però imbari un attimo imbari e a seminare con lo stabio? imbari? certo che imbaro a fare coi la liva? a coi la liva? eh che ci vuole dai imbaro dai falopì imbaro? imbaro, 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 senti ma siccome io faccio con da lì e non faccio lo professore vado da un'altra parte che ti imbara poi alveni qua e fatichi vanno e cammino vai che è un giorno da un terzo tempo oggi cioè quelli della città chiude le fabbriche e dove vieni in campagna a romperlo cazzo grazie 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 grazie